problemi in vista per iulia bruschi al grande fratello il suo ex simone costa ha sporto denuncia nei suoi confronti come riportato su nuovo tv il direttore riccardo signoretti ha svelato su instagram che l'uomo mostra uno sfregio al viso la dolce liaison di iulia con giglio ha scatenato polemiche tra i coinquilini e ora si aggiunge la denuncia dell'ex compagno il settimanale nuovo tv ha pubblicato le dichiarazioni di simone costa che mostra una cicatrice sul viso sostenendo che gli sia stata procurata da iulia poco prima che entrasse nella casa viaggio danelli su tik tok aveva già parlato della situazione turbolenta tra i due confermando la denuncia di simone costa e ipotizzando un'aggressione con un bicchiere di vetro la notizia non è stata confermata da iulia bruschi né dal suo staff ma il clima al grande fratello si fa sempre più teso nel frattempo i sentimenti tra iulia e giglio crescono si sono praticamente dichiarati amore con iulia che confessa di essersi innamorata e giglio che ricambia la situazione si fa sempre più intricata al grande fratello con iulia bruschi al centro di polemiche e denunce da parte dell'ex compagno resta da vedere come si evolverà la situazione e se iulia riuscirà a gestire al meglio la sua permanenza nella casa più spiata d'italia restate aggiornati su nuovo tv per tutte le ultime news sul grande fratello